L'Italia sale al terzo posto nella classifica mondiale per numero dei casi dopo Cina e Sud Corea ed il Nord ha iniziato la quarantena per provare a frenare l'avanzata nel Covid-19. Scuole, università, messe, pub, discoteche, tutto chiuso. Il premier Giuseppe Conte, dalla sede della protezione civile per l'intera giornata dominicale e apparso su tutte le trasmissioni, prova a rassicurare. Sono sorpreso dell'esplosione dei casi ma la linea della massima precauzione ha pagato. Non bisogna affidarsi al panico ma seguire le indicazioni delle autorità. Ed in Sicilia il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per oggi al palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive e omogenee da adottare in tutti i comuni dell'isola per l'emergenza coronavirus. Saranno presenti assieme all'assessore alla salute Ruggero Razza, il dirigente generale del dipartimento delle attività sanitarie Letizia di Liberti, il capo della protezione civile regionale Calogero Foti ed il presidente dell'associazione dei comuni siciliani Rio Luca Orlando. Chiederemo che il presidente della regione possa essere nominato soggetto attuatore dell'ordinanza di protezione civile che ci permetterà di velocizzare tutto gli interventi, ha annunciato l'assessore alla sanità Ruggero Razza. Stiamo lavorando per individuare due hub, uno per la Sicilia orientale e l'altro per quello occidentale, per realizzare aree di quarantena se dovesse essere necessario, perché bisogna programmare anche se in questo momento non vi è alcuna necessità. Sono già attivi 70 posti letto anche con aree negative, al momento ci sono registrati meno di 10 casi sospetti in Sicilia, ma la cosa importante è che tutti sono stati immediatamente diagnosticati in 12 ore grazie ai tamponi che seguiamo nei policlinici di Palermo e Catania. In provincia di Messina, San Fratello, sono ancora in isolamento, le due famiglie che a contatto con l'insegnante è rientrata da Codogno, intanto tra Palermo e Catania sbarcano circa 4-5 mila persone al giorno dagli aeroporti di Lombardia e Veneto e il personale non riesce a controllare tutti gli arrivi. Hanno già installato a Palermo e Catania i dispenser con il disinfettante per le mani ed oggi arriveranno i termoscanner che affiancheranno i termometri a infrarossi. Sono tantissimi i lavoratori e studenti, in particolare i siciliani in queste ore, che stanno tornando dalle regioni del nord a casa e il costo dei voli sta salendo alle stelle un volo Milano-Catania può arrivare a costare anche 500 euro, una ingiustizia della quale la Feder Consumatori ha denunciato il caso.